La propria professione, la propria vita, le proprie attività, nel fare cultura, nel rendere viva la nostra comunità che è così attiva dal punto di vista culturale, sociale, di passioni. Ecco, ognuno di noi deve fare conti in questi anni con questo concetto della trasformazione. La pandemia è portata da crisi, la crisi è una rottura, è una rottura degli schemi e a questa rottura possono nascere cose nuove, oltre che le tante cose negative che abbiamo affrontato e che, almeno, dobbiamo ancora affrontare perché non è ancora tutto finito. È un'opportunità unica e io credo che in queste tele ritroveremo tante storie, tante storie che molti di noi hanno sentito raccontare, qualcuno di noi magari li hanno vissute, storie di un arignano che apparentemente non c'è più, ma che è un arignano che è una storia di fabbriche, una storia di produzione, una storia economica, una storia di socialità, che è nata in un mondo che era in trasformazione a fine ottocento, un mondo che ha preso grande la nostra comunità, un mondo che negli ultimi vent'anni si è molto interrogato, a partire dalla industrializzazione, su come uscire, come trasformarsi e che oggi forse iniziamo a trovare una sua forma, una sua posizionamento nuovo. Io credo che questa mostra ci farà molto riflettere, sarà un momento importante per riflettere anche su chi siamo, su come vogliamo giocarci la trasformazione che oggi ci aspetta, le opportunità che ci stanno arrivando, perché Lignano sta ripartendo, Lignano sta riposizionandosi anche nel rapporto con tutta una serie di istituzioni, con Milano, una Milano che è profondamente cambiata, non solo dall'Expo, ma dall'Expo in particolare, in un rapporto con Milano, dicevo, con la regione, in un rapporto con il contesto europeo, nel quale viviamo e con il quale sempre di più dobbiamo fare i conti. Grazie.